Che mese in scena del rally e rivedremo questa sera? Che mese in scena? Molto originale. Mi è piaciuta molto l'idea del regista Marinelli che ho abbracciato e devo dire che è stato fatto un lavoro molto intenso un mese intensissimo abbiamo debuttato alla Versiliana con un grosso successo e quindi speriamo di bissare qua questa piazza che amo molto dove sono stato tantissime volte. Che cosa ha da raccontare Ray Lear alla platea contemporanea? Ray Lear dice tutto, c'è dentro tutto c'è l'odio, l'amore, la vendetta, l'ingiustizia l'ingratitudine dei figli soprattutto quella quindi diciamo che questa tragedia che assomma in sé veramente lo scibile umano il sentimento umano nella sua estensione più grande è considerata forse la più grande tragedia di Shakespeare quindi questa la dice lunga e c'è dentro di tutto di più non spero più tutti fuori tutti fuori a far la guerra con le palle di me l'ingratà Grazie a tutti